il presentatore deve dire così vi do il benvenuto al secondo Rescue Meeting Memorial Guccio Roberto Gilardini si tratta di un'esercitazione a scopo addestrativo per le unità cinofile da soccorso per la ricerca di persone in superficie o sepolte da macerie prima di iniziare tutti i lavori faremo l'alza bandiera, la cerimonia dell'alza bandiera io devo dare formalmente un attenti per coloro che hanno fatto il sedizio militare capiscono cosa vuol dire tutti attenti alza bandiera di un'esercitazione a scopo addestrativo per le unità cinofile da soccorso di un'esercitazione a scopo addestrativo per le unità cinofile da soccorso di un'esercitazione a scopo addestrativo per le unità cinofile da soccorso grazie 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 grazie